Benvenuti nello Zygbra Experience Center di Londra. Questo breve video ha lo scopo di mostrarvi come il cassetto a luce UV di Zebra può permettervi di risolvere i problemi legati alla sanificazione dei vostri terminali. La necessità di mantenere puliti e sanificati i nostri terminali è un bisogno pressante nel mondo in cui viviamo. È una necessità per noi, per i nostri clienti e per i nostri dipendenti. Per pulire i terminali solitamente si utilizzano spray disinfettanti. Il problema però sorge quando abbiamo la necessità di mantenere traccia di questa pulizia. Con gli spray infatti non è possibile sapere quali terminali siano stati puliti, quando o da chi. Inoltre in Zebra abbiamo notato un aumento del numero di terminali danneggiati a causa della pulizia ripetuta con questi spray disinfettanti. Quindi pulire i terminali è importante ma come possiamo farlo mantenendo i terminali in piena efficienza? Il nostro cassetto a luce UV consente di pulire fino a 5 terminali alla volta in soli 60 secondi. Se utilizzato insieme alla nostra app di tracciatura è possibile monitorare e segnalare quali terminali siano stati disinfettati e quando. I test che abbiamo effettuato mostrano che la luce UV elimina i batteri e di virus più comuni come ad esempio i virus a filamento di DNA singolo e gli schemi che accogli. Per pulire i terminali basta aprire l'app UV Trace, leggere il codice QR all'interno del cassetto e posizionare il terminale all'interno. Quando il cassetto viene chiuso inizierà il ciclo di sanificazione di 60 secondi e il cassetto si aprirà automaticamente alla fine del processo. L'app UV Trace permette di avere visibilità circa l'ultima sanificazione dei terminali. Attraverso la visualizzazione in uno scudo rosso, giallo o verde sul terminale. Al momento del prelievo del terminale l'utente potrà quindi visualizzare l'ora e la data dell'ultimo ciclo UV. La dashboard dell'app UV Trace può fornire report giornalieri, settimanali o mensili sulla cronologia delle sanificazioni consentendo così una tracciatura completa. Il cassetto a luce UV è una soluzione flessibile disponibile in due opzioni. La prima come soluzione solo hardware quindi solo il cassetto a luce UV e la seconda invece insieme alla app UV Trace che permette appunto la tracciatura delle varie sanificazioni. Il cassetto a luce UV di Zebra può essere alloggiato da solo oppure montato all'interno dell'intelligent cabinet di Zebra. Se desiderate maggiore informazione sui cassetti a luce UV contattate il vostro rappresentante Zebra di fiducia.